Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi finisce 2 a 2 tra Juve Tottenham e Godo 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 perché la Juve a inizio partita dopo 8 minuti si era trovata in vantaggio per 2 a 0 poi durante la partita ci sono stati i soliti vari furti però poi alla fine il Tottenham accorcia le distanze con Kane nel primo tempo e poi trova il pareggio nel secondo tempo quindi partita che finisce 2 a 2 e sappiamo che il 2 a 2 in casa non è per nulla un risultato positivo perché ora la Juve al ritorno per qualificarsi dovrà o vincere oppure pareggiare con un risultato superiore al 2 a 2 ovviamente con il 2 a 2 si andrebbe ai risultati ma quindi il Tottenham ha a sua disposizione 2 risultati su 3 ovvero o la vittoria o un pareggio per 0 a 0 o 1 a 1 comunque come detto la Juve si porta in vantaggio subito con Higuain difesa del Tottenham lì scoperta Higuain che era praticamente solo lo tira e forse lì poteva fare qualcosa di meglio anche il portiere Ioris ma gol in netto fuori gioco poi c'è il calcio di rigore all'ottavo minuto che Higuain segna la palla prima è toccata da Ioris e poi entra poi dal 2 a 0 in poi il Tottenham comincia a giocare davvero molto bene il Tottenham dimostra di essere una squadra che gioca davvero un ottimo calcio piena di giocatori davvero molto forti però allo stesso tempo mostra di avere una difesa abbastanza fragile e la Juve è stata fortunata ad avere quell'inizio perché secondo me se non trovava quei due gol all'inizio questa partita l'avrebbe proprio persa comunque sul 2 a 0 ci poteva stare un doppio calcio di rigore per il Tottenham cioè sulla stessa azione Benazia prima la prende con la mano in aria di rigore e poi a Terracaine sempre in aria di rigore quindi ci poteva ci sono stati due episodi e quindi poteva essere chiamato il calcio di rigore e per nessuno di questi due episodi è stato chiamato il calcio di rigore e vabbè i soliti furti parlando chiaramente poi il Tottenham riesce ad accorciare le distanze Dele Alli serve Kane che riesce a superare Buffon e segna il gol del 2 a 1 Henry Kane davvero grandissimo centravanti probabilmente il centravanti più in forma del momento anche a segnare quel gol è stato molto freddo perché non era facile una volta che Buffon era uscito e il 2 a 1 del Tottenham è stato davvero meritatissimo perché erano un bel po' di minuti che il Tottenham stava spingendo e la Juve era stata salvata in un paio di occasioni da due grandi parate di Buffon poi a fine primo tempo Aurier atterra Douglas Costa in area di rigore viene concesso il calcio di rigore lì Aurier è stato molto ingenuo secondo me a fare il fallo su Douglas Costa ma Iguain sbaglia il rigore lo tira centrale centrale potente palla che va sulla traversa e finisce così il primo tempo poi comincia il secondo tempo il Tottenham continua a concedere qualcosa in difesa abbiamo detto gioca davvero molto bene però ha una difesa ai difensori commettono diverse ingenuità e poi può darsi anche che è il suo gioco offensivo che lo porta a fare questo ma sappiamo che la difesa la fase difensiva non è proprio la migliore caratteristica per quanto riguarda le squadre inglesi comunque su un calcio di punizione Eriksen riesce a trovare il gol del 2 a 2 e quindi il Tottenham riesce a pareggiare quindi la partita finisce così 2 a 2 e ora come abbiamo detto è molto positivo il fatto che la Juve dovrà tenere per tre settimane il pensiero che deve andarsi a giocare questa partita a Wembley davvero molto delicata e sappiamo che dopo il 2 a 2 dell'andata la situazione per loro non è per niente facile e poi questi se vengono eliminati morono proprio quindi quindi sarebbe davvero una cosa una cosa molto positiva stanno impazzendo stanno impazzendo già ogni domenica ci sorpassano perché li fanno giocare prima poi si illudono che noi vinciamo e alla fine vinciamo e li controsorpassiamo ora hanno anche il pensiero della Champions stanno impazzendo stanno impazzendo e cerchiamo di farli impazzire fino alla fine detto questo ragazzi io vi saluto mi raccomando lasciate tanti like qui sotto se domani volete il post partita di Real PSG davvero grandissima partita è un ottavo di finale ma potrebbe essere benissimo anche una finale quindi penso che porterò questo post partita quindi ragazzi io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti